Tommaso Fantoni che quindi diciamo il ruolo naturale serve un 4 di fratto ma in questi casi dovrà fare anche da Cianno, si muovono veramente con intensità incredibile e come questa intanto ha bellissima azione, bellissima, Sinelli che è riuscito a posizionare bene il corpo bravo fratto anche a prendere posizione, spara la bomba e la mette, Trentini, palleggio Trentini, Blair, grande fisico questo Blair, Trentini si arresta, le reali si, Tapparo, Trentini va dentro lui, si arresta, ottima elevazione, si vedeva già che aveva delle doti non comuni ma non solo dal punto di vista fisico, chiaramente è uno di quei giocatori, Daniele che ottima bomba, Marcini è nato come guardia ala, ormai si sta trasformando bello il passaggio di Blair, Blair, va verso il canesto Blair, si ferma ancora per Trentini, mano calda Trentini si realizza, ora è molto rapido, fuori per Trentini che va lui da tre, la mette Trentini, in piedi di Varese, in questo momento sicuramente, quasi recupera palla, si palla, Blair fuori per Trentini, Trentini va dentro, pallo per Giano, che fa il reverse, sembrava la cosa giusta da fare, va dentro e realizza ancora trentesimo punto per la libertà, Trentini da tre, Trentini, grazie a tutti grazie a tutti